La Regione siciliana si era impegnata a trasmettere entro 20 giorni la documentazione richiesta da Cassa Depositi e Prestiti sulle Terme di Sciacca. Questo aveva detto l'assessore regionale all'economia Marco Falcone nel corso della riunione avuta con il Sindaco, esponenti del Consiglio Comunale, deputati e rappresentanti del Comitato Civico Patrimonio Termale, confermando che l'interesse di Cassa Depositi e Prestiti non è venuto meno, nonostante l'esclusione dal bando sugli immobili di pregio con destinazione ricettiva sul quale era stata riposta l'aspettativa di poter riqualificare il bene e arrivare alla riapertura delle strutture. L'esponente del Governo Schifani ha dichiarato che ci sono altre possibilità di intervento e che Cassa Depositi e Prestiti aveva chiesto alla Regione di integrare la documentazione che era stata trasmessa l'estate scorsa. Siamo fermi al 28 giugno, non si sa se l'assessorato all'economia ha già trasmesso gli atti richiesti. Intanto Sciacca si cerca di tenere accessi riflettori sulle terme con due iniziative in programma oggi. Alle ore 19 l'ospite del salotto letterario San Marco Restart presso Buono Vacanze sarà Pippo Giglio Rosso, regista palermitano che nel 1998 realizzò un interessante documentario sulle terme di Sciacca. Si parlerà della sua attività artistica nel mondo del cinema e della televisione, ma anche di quel periodo d'oro dell'attività termale. Seguirà alle ore 21 un dibattito, cui parteciperà anche il regista, al Circolo di Cultura di Sciacca alla presenza del sindaco Fabio Termine, del presidente del Consiglio Comunale Ignazio Messina, del coordinatore del Comitato Civico Patrimonio Termale Nino Porrello e dell'ex direttore dell'azienda delle Terme Alfredo Ambrosetti. Sarà l'occasione per capire ad esempio se la documentazione richiesta è già stata trasmessa a Cassa Depositi e Prestiti. Un dibattito sulle terme di Sciacca, quello in programma questa sera al Circolo di Cultura, per guardare al futuro partendo dal passato, da quello che erano le terme. Verrà infatti proiettato il docufilm girato dal regista Giulio Rosso 25 anni fa, che mostra una struttura all'epoca ricca di bellezza e ricchezza. A coordinare le due iniziative sarà il collega giornalista Giuseppe Recca.